Studio 5 Ecco, che cosa ha rappresentato per te suonare le canzoni? Cosa? Sei carina, spigliata Oddio, è un gran bell'uomo Ottimo lavoro, Gary Chi è questo uomo? Oddio, è un gran bell'uomo E vedremo di farvi incontrare Speriamo che da questo incontro nasca Una famiglia, un ventiglito Ave, questo nel centro, ma l'igiene è sempre importante, ragazzi! Ci siete tutti? Nessuno! Auguri nuovamente Wow, ci stanno silurando Amici, che siete in ascolto I nostri indici di credimento sono addoppiati! Amici, vi ricordo l'appuntamento con Studio 5 Tutti i giorni, da lunedì al sabato Alle 19.30 su Canale 5